Adesso a Stefano Donati che naturalmente prosegue su questa idea della qualità, perché come vedete in realtà tutti parlano di qualità, poi il problema come si diceva farla percepire, che è una delle cose più complesse da questo punto di vista. Devo dire che faccio intanto gli auguri a Eros da Luca, dico che Angelo Berselli ci ha detto pignoletto la bolla dei poveri e quindi colgo anche questo commento e poi invece dico solo, altra parola da Illuminati, si vende da solo, che è un'altra cosa. Comunque faremo probabilmente una puntata dello smarketing sui vini, ve lo anticipo e io farò il Lambrusco, naturalmente ve lo dico perché è il mio vino naturalmente d'elezione. Invece lascio la parola a Stefano Donati, naturalmente che parlerà della qualità dal punto di vista del marketing, di quello che lui fa normalmente. Prego Stefano. Bene, intanto vi chiedo se vedete le slide. Le vediamo, le vediamo, devi, perfetto. Benissimo. Allora, io tratto la qualità dal punto di vista marketing, quindi è un aspetto un po' più tecnico rispetto a quello che ha trattato, ha trattato Eros. Nel marketing per creare qualità agli occhi del cliente, quindi parliamo sempre di qualità percepita, dobbiamo individuare i fattori critici di successo, cioè quali sono quegli aspetti, quegli aspetti che gli occhi del cliente fanno appunto percepire qualità. Tutto dipende da un rapporto, che è il rapporto tra prestazioni e aspettative. Prima di imbatterci in un prodotto e in un servizio noi abbiamo una serie di attese, le famose aspettative. Se ciò che ci presentano, che ci offrono, che ci propongono è superiore alle aspettative, abbiamo fatto centro, cioè la percezione di qualità sarà elevata. Questo assunto, che è estremamente semplice, quando poi va messo in pratica diventa molto molto più complesso. Perché? Perché le leve che determinano le aspettative del cliente sono difficilmente governabili. Cosa determina le aspettative del cliente? Prima di tutto l'esperienza personale che ha avuto in un acquisto precedente. Il problema qual è? È che il cliente fa riferimento anche a esperienze estranee a quelle che ha avuto con noi. Quindi se è trovato male in un hotel in una certa località, ecco che penserà che in quella località altri hotel non siano all'altezza. Il secondo criterio, altrettanto importante, è il passaparola. Il passaparola agisce in maniera molto molto potente sulle aspettative delle persone perché la fonte non è interessata. Se un nostro amico ci consiglia una trattoria, evidentemente noi non esitiamo a provare quella trattoria perché il nostro amico non ha nessun interesse se non il nostro benessere. Il terzo criterio che genera un'aspettativa è la comunicazione esterna dell'azienda, cioè volgarmente la pubblicità. Questo terzo criterio ha un valore molto inferiore perché noi sappiamo benissimo che tutte le aziende magnificano a se stesse quando si propongono. Quindi essendo una voce interessata a esaltare le proprie qualità, evidentemente avrà un effetto inferiore. Se noi vediamo un Deplian su un paesaggio dei Caraibi e ci dicono che l'acqua è cristallina, le spiagge sono bianche, i coralli sono rossi, vi dicendo poi sappiamo che andando là non sarà esattamente come ce la raccontano. Il quarto criterio è il costo percepito e già qui non ci possiamo fare niente, nel senso che, rimanendo nel tema delle vacanze, sette giorni a Tenerife in un hotel quattro stelle o l'inclusive, volo compreso, 850 euro, quant'è? Tanto, poco, boh, ognuno se ne fa un'idea. Il quinto criterio è la situazione personale. Noi siamo persone diverse nel tempo e nello spazio. Noi possiamo ritenere una certa proposta eccellente in base ad esempio alla nostra età o in base alla situazione in cui siamo. Quando avevo vent'anni andavo in giro con i miei amici nel nord Europa e dormire in un ostello della gioventù faceva parte del divertimento. Alla mia età, piuttosto che cadere in un ostello, sto a casa mia. Ma io, alla mia età, se vado in piena, piuttosto che dormire nella savana, accetterei volentieri un ostello. Ecco perché questo concetto spazio-temporale agisce in maniera molto importante sulle aspettative. Cosa ci rimane? Ci rimane evidentemente lavorare sulle prestazioni. Cioè fare in modo che ciò che proponiamo, ciò che facciamo vedere al nostro cliente, sia superiore alle aspettative comunque questa persona se le sia creata. Le prestazioni dipendono da cinque fattori importantissimi. Il primo si chiama efficacia. Come vedete è la capacità di produrre i risultati. Se io devo andare, ecco, visto che ero seppena tornato, se io devo andare all'isola d'Elba e devo prendere un traghetto, quando è che il traghetto è efficace? Quando da Piombino sbarco a Portoferraio. Quindi è sufficiente il tipo di capacità qualitativa dell'offerta. Chiaramente non basta questa cosa. Se io il tragitto lo faccio in due ore, anziché in un'ora, non è efficiente, ma rimane efficace. Perché io sono sbarcato sull'isola d'Elba. L'efficiente è quindi l'elemento quantitativo, scusate, di corredo all'efficacia. La capacità concreta di produrre benefici con la minore quantità di costi non economici sostenuti. Cioè, qual è un costo non economico? Il tempo che devo aspettare? L'ansia, lo stress che devo subire? Il terzo criterio che concorre a determinare una prestazione di valore è la appropriatezza. Quando noi facciamo qualcosa di customizzato, di specifico, per un bisogno particolare di un nostro cliente. Infatti qui le indicazioni nei casi specifici. Rimanendo sull'esempio del traghetto, facciamo conto che una famiglia accede al traghetto con un bambino. Bene, nel traghetto c'è un'area con le palle colorate dedicate appunto al gioco dei bambini, dove alcuni hostess li faranno giocare. Il quarto criterio si chiama accettabilità. Ciò che è coerente con i principi del cliente, che sono i valori, gli aspetti etici, morali. Nell'esempio del traghetto potrebbe essere che una persona è iperattenta all'igiene, entra sul traghetto e è tutto tirato a lucido. Chi ha avuto un'esperienza del traghetto evidentemente sa che non è così, ma noi stiamo ragionando per assurdo, per fare un esempio e dare concretezza, dare un senso a questi cinque termini. Il quinto criterio si chiama accessibilità. Come leggete, la possibilità di utilizzare, di avere a portata di mano il prodotto o il servizio quando questo serve. Rimanendo nell'esempio del traghetto e ragionando sempre per assurdo, potrebbe essere che io arrivo l'11 di agosto alle 10 di mattina senza avere prenotato e accedo direttamente al traghetto senza fare la coda, cosa che è evidentemente surreale, è impossibile, ma è solamente per fare un esempio. Cosa vuol dire per noi questo? Vuol dire che non solo è assurdo e privo di significato parlare di qualità, la qualità dei miei prodotti, la qualità dei miei servizi. Abbiamo visto che qualità si ottiene declinando questi cinque fattori in cose, prestazioni. Allora, il lavoro che noi dobbiamo fare è trasformare questi cinque concetti, efficace, efficiente, appropriato, accettabile e accessibile, in elementi di servizio correlati, accessori a quello che diamo. Io prima ho fatto l'esempio del traghetto, io stesso l'ho definito surreale, è evidente che per la maggior parte di persone un servizio concepito come quello che vi ho descritto sarebbe il non plus ultra, perché non lo fanno? Perché in tutto questo c'è un altro fattore da considerare, il rapporto costo-benefici. Cioè noi possiamo oggettivamente, effettivamente, realizzare un servizio come quello che vi ho descritto, ma sarebbe talmente anti-economico farlo che non ha senso. Anche in realtà ci sono due o tre compagnie, mi sembra di ricordare, che effettuano questo tragitto avanti e indietro per l'isola d'Elba e con un accordo di cartello potremmo dire si accordano anche sui prezzi, non solo non si vengono incontro. Già che noi non siamo in quel contesto di mercato e già che noi dobbiamo competere all'interno di un mercato dove abbiamo dei concorrenti che sono veramente agguerriti, la cosa da fare per fare percettire la qualità, quindi, è di trasformare questi cinque criteri, cose, attività, prestazioni. Quindi se volete, se avete di fianco un block notice e un avviro, quello che vi invito a fare è di trascrivere questo sistema che vi sto presentando in maniera tale che, se volete, evidentemente, quando avete tempo, trasformerete la vostra attività, il vostro prodotto in concreto. Quando è che è efficace? Lì vedete, c'è solamente un parametro, c'è solo un aspetto tecnico. Quando è che è efficace un avviro? Quando scrive. Per ciò che riguarda efficiente, appropriato, accettabile, accessibile, ne potete trovare anche più di uno, due o tre. Bene. Cosa ce ne facciamo di queste prestazioni che andiamo a individuare? Allora, il presupposto è che quando facciamo questo lavoro non dobbiamo ragionare con la nostra testa, ma con la testa del cliente. Cioè, se io fossi il cliente, quando è che riterrei il mio prodotto o servizio veramente efficace, efficiente, eccetera, eccetera, eccetera. Quando ho trascritto delle prestazioni che sono coerenti col mercato verso il quale mi rivolgo, ecco che improvvisamente ho individuato i contenuti. Cioè, che cosa raccontare al mercato per fargli percepire questa qualità. Quindi il mio invito è smettiamolo di scrivere nelle nostre comunicazioni che siano mail, che siano landing page, che siano siti internet, blog, quello che volete, i nostri prodotti sono di qualità. Perché è una cosa che oggettivamente non ha nessuna presa se non addirittura diventa oggi controproducente. Abbiamo quindi individuato quali sono i motivi per i quali i nostri clienti ci contatteranno. Come voi sapete, come forse avete letto la presentazione, io mi occupo di marketing strategico, quindi io definisco il che cosa dire. Passo la parola a Giacomo, che poi la passerà a Carlo Alberto, che si occupa, come sapete, di marketing digitale, che vi racconterà poi dopo come approcciarvi con il mercato. Bene, grazie, grazie Stefano Donati. Devo dire che quello che stava dicendo della qualità è proprio questo, cioè dobbiamo provare a capire nei prodotti quali sono gli elementi più importanti, gli elementi distintivi, gli elementi su cui possiamo giocare da questo punto di vista. è un po' quello che abbiamo tentato di fare anche nell'altra occasione dello smarketing, cioè uccidere quelle che sono le parole vuote, le parole che sono svuotate di contenuti. Se noi continuiamo a parlare per frasi fatte, è naturale che questo comporta uno stacco di chi ci sta ascoltando. È un po' come si vede per esempio quando continuiamo ad ascoltare un relatore anche importante, che però alla quarta volta che ci ripete esattamente le stesse cose, magari frasi sentite, strasentite, noi non riusciamo più a essere attenti. Vi faccio solo un esempio di cui abbiamo parlato, anche siamo confrontati con Stefano, con Eros e con Carlo Alberto, sulla parola sanificazione. La parola sanificazione che è una parola che adesso è diventata di uso comune, se prima e all'inizio del Covid poteva essere una parola che attivava una sorta di attenzione, adesso quando uno parla di sanificazione, siccome ne parlano tutti, la sensazione che si ha a certe volte è che l'interlocutore voglia capire dove c'è la fregatura, cioè e se uno non riesce a spiegargli effettivamente che cos'è la sanificazione, cos'è la pulizia, cos'è la detersione, cos'è il detergente, cos'è questa cosa, non gli fa capire qual è la vera qualità del suo servizio, sanificazione è una parola schiava, cioè una parola che oramai è stata svuotata, come quelli che usavano sinergia o che usavano tutta una serie di cose, oppure come quelli che ti dicono ancora adesso che lo smarketing non solo ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma è anche un'occasione, una grande occasione di crescita professionale, ditemi voi quando uno vi dice una cosa del genere, se non vi appare il salvadanaio con la X sopra, perché vuol dire che vi pagheranno in un'altra parola che è stata svuotata, e che secondo me era una parola schiava della volta precedente, che era visibilità, vi pago in visibilità, e adesso io pago Carlo Alberto Baroni in visibilità dandogli la parola, prego Carlo Alberto, la visibilità è tutta tua.